bella raga oggi un nuovo video sul mio canale oggi vi insegnerò come si fanno il cartello si servirà il legno bastoncino bastoncino dovremmo metterlo in questa posizione e poi ci metteremo il cartello poi per fare il cancelletto è tutta un'altra storia perchè dovremmo mettere qua qua e qua poi così cancelletto voilà poi per fare la barca invece per fare la botola eccolo e poi per fare questo e poi l'ultima cosa che qualcuno mi chiesa ecco come si fa il vaso il vaso è molto semplice ci servirà il mattone e vi vado a mettere come si fa il suo come si fa il suo vabbè termino qua che se vi vediamo in like ci vediamo alla prossima ciao bella ciao